Ma innanzitutto la ringrazio perché finalmente la ringrazio, non li chiamiamo più come li chiamava lui i decreti sicurezza, ma i decreti Salvini. Io mi aspetto quello che in gran parte è trapelato in questi giorni, dare all'Italia dei decreti che anche sul tema dell'immigrazione garantiscano legalità, solidarietà, umanità, giustizia. Questo ci si aspetta e quindi ad esempio che non si rimandano indietro delle persone che se tornano al proprio paese rischiano la propria vita o che si rispetti la lettera del Presidente della Repubblica sull'entità delle multe che erano state previste da quel decreto, che si sia più vicino ai comuni, ricostruendo e aiutando i comuni nell'integrazione e nell'ospitalità per evitare che davvero senza nessuna politica l'immigrazione diventi un problema. C'è un pacchetto di un provvedimento che la maggioranza ha discusso per mesi che io credo sia positivo.